18 cantanti, alcuni provenienti anche dal sud Italia, si sfideranno sabato sera alle 20.30 sul palco del Teatro Mario Spina di Castiglion Fiorentino per conquistare il quinto trofeo del concorso Canoro Fuori la Voce, promosso e organizzato dalla Proloco Castiglionesi insieme alla Casa Discografica di Reggio Emilia, Universi Musicali e con il Patrocino del Comune. Ospiti della manifestazione, la cantante Viola Valentino e l'attore, regista e sceneggiatore Massimo Ceccherini, fresco di nomination agli Oscar per il film di Matteo Garrone, Io Capitano, un'iniziativa diventata ormai di punta per la Proloco e che torna a teatro come amministrazione, spiega l'assessore al terzo settore Chiara Cappelletti, patrociniamo volentieri Fuori la Voce un'occasione per celebrare la musica e perché no scoprire magari qualche talento locale. Ringrazio il Comune di Castiglion Fiorentino per il prezioso supporto che offre alla Proloco nella realizzazione di questo evento, sostiene il presidente della Proloco Paolo Faralli che aggiunge sono disponibili ancora pochissimi biglietti per la serata di divertimento all'insegna della musica. Il vincitore del concorso inciderà un singolo con la Casa Discografica Universi Musicali.